Ciao a tutti, sono Alberto Brugnettini e sono il direttore operativo di Green Power Systems. È per me un onore rappresentare la nostra azienda in questa splendida occasione ed è un piacere confermare il nostro impegno come title sponsor e come parte integrante del team CIP Green Power anche per la stagione sportiva 2023. Green Power Systems è un'azienda che progetta, produce e commercializza gruppi elettrogeni e torri faro in tutto il mondo ed è presente attivamente dal 2016 nel campionato mondiale di MotoGP. Siamo title sponsor del team CIP Green Power dal 2018 e durante questi anni abbiamo potuto assistere ad importanti risultati sia sportivi che imprenditoriali. In pista la moto verde del team CIP Green Power ha avuto una crescita costante, arrivando ad ottenere podi e vittorie. Nel mercato dei gruppi elettrogeni invece Green Power è diventato, in termini di fatturato, il primo costruttore indipendente a livello europeo. Ma questi, seppur entusiasmanti risultati, ormai sono solo il passato ed è il futuro che deve spronarci a fare sempre meglio, ponendoci obiettivi sfidanti. Alain, Javier e tutto il suo fantastico staff sono già al lavoro per far volare la moto nella stagione che è ormai alla porta e quindi auguro a tutti loro buon lavoro. Infine vorrei fare un grosso in bocca al lupo ai nostri nuovi piloti, Lorenzo Fellon e David Salvador. È per loro il primo anno con i nostri colori addosso, ma con il talento e il lavoro di squadra sicuramente sarà come se fossero con noi da una vita. E lotteranno, certamente, per le posizioni che contano sin dai primi Gran Premi. Che dire? Forza Lorenzo, forza David e forza Team CIP Green Power! Grazie a tutti!